Ciao, ciao a tutti, siamo finalmente qui, finalmente perché questo momento lo abbiamo aspettato tanto, davvero tanto, siamo qui per sostenere Giuliana, siamo qui per sostenerla dopo un lunghissimo periodo di commissariamento che ha visto questo municipio, il decimo, di fatto abbandonato. Per quanto la commissione prefettizia abbia lavorato, noi siamo stati accanto alla commissione prefettizia soprattutto per lavorare su tutto il riassetto dell'arenile, abbiamo finalmente, arriveremo a brevissimo ad approvare il piano dell'arenile, lo stiamo facendo noi, il PUA, tanti l'hanno detto, nessuno l'ha fatto, ci stiamo finalmente arrivando. Però sotto tanti altri punti di vista questo è stato un municipio abbandonato, un municipio umiliato e noi siamo qui per riprendercelo questo municipio, perché i cittadini devono poter rientrare nelle sale del municipio e decidere del loro futuro. E con Giuliana vogliamo fare questo. Oggi siamo qui e accanto a noi ci sono degli sfidanti. Ci sono partiti che si presentano alle elezioni dopo che hanno ridotto questo municipio in una maniera indecorosa. Si presentano senza neanche chiedere scusa, scusa per quello che hanno fatto. Abbiamo il PD che si presenta come se mafia capitale non fosse esistita, hanno arrestato Tassone, il precedente presidente. Sono qui. Io non so con quale coraggio siano qui. E abbiamo la destra. La destra che sta alzando un polverone. Un polverone perché li abbiamo sgomberati da una sede prestigiosissima vicino al Colosseo. Nella quale stavano lì senza alcuna giustificazione dal 72 e non pagavano neanche 13 euro di canone. Ora io voglio sapere, voglio sapere, quanti di voi pagano un affitto da 13 euro, che sono 160 euro l'anno. Allora loro pensano che questo sia un motivo di battaglia. No, non lo è. Quando noi parliamo di legalità, perché questo è il momento del riscatto, quando noi parliamo di legalità, parliamo di tutto questo. Parliamo di mafia capitale, parliamo di procedure poco chiare. Diciamo che il Movimento 5 Stelle è l'antidoto di mafia capitale. Noi abbiamo il coraggio di parlarne e abbiamo il coraggio di prendere le distanze e di riavviare una gestione sana del potere politico, della gestione amministrativa e della gestione economica e sociale del territorio. Noi abbiamo il potere di farlo e siamo gli unici. Nessuno degli altri può parlarne, rimanendo pulito. Noi alle spalle e di fronte abbiamo l'onestà. Quando penso alla legalità, quando penso all'onestà, io penso alle gare pubbliche, che è una delle sfide più grandi che ci troveremo, che ci stiamo trovando ad affrontare e Giuliana si troverà ad affrontare. Quando voi vedete le strade che stiamo rifacendo in municipio, voi dovete pensare che quei lavori che vedete oggi sono frutto di 6-8 mesi di lavoro che è stato fatto dietro e ancora prima di arrivare a fare tutta la procedura di gara abbiamo dovuto trovare i soldi. In una città che ha oltre 13 miliardi di debito abbiamo trovato i soldi e abbiamo iniziato a fare tutte queste procedure per arrivare alla fine di tutto questo periodo a riasfaltare le strade. E allora questo è il processo di legalità che va fatto su ogni appalto, ma che pensate che non sarebbe bello dare una risposta immediata ai cittadini? Pensate che non sarebbe bello poter immediatamente risolvere tutti i problemi che l'amministrazione si trova ad affrontare? Sì, sarebbe bello effettivamente sì, però allo stesso tempo sappiamo, perché lo sappiamo, che le cose fatte in velocità sono quelle che faceva Mafia Capitale, completamente senza regole e questo ce lo dobbiamo ricordare perché se vogliamo intraprendere un percorso e vogliamo intraprenderlo ce lo dobbiamo ricordare. Adesso vi voglio raccontare un paio di cose che stanno avvenendo in questi giorni, allora noi in sesto municipio, prima avete conosciuto Roberto Romanella, il presidente, in sesto municipio abbiamo riaperto quattro tra asili nidi e materne. Ebbene circa un mese fa abbiamo inaugurato delle sezioni di una materna in un territorio che ha una fame di asili nido e di materne che voi non avete idea, delle liste di attesa di oltre mille bambini. 15 giorni dopo qualcuno ha bruciato quella scuola, ma che pensano di fare uno sgarbo all'amministrazione? Fanno uno sgarbo ai cittadini, fanno uno sgarbo a tutte quelle famiglie, a quei bambini che in quella scuola finalmente avevano trovato un posto dove andare. Fanno uno sgarbo a tutti i cittadini di Roma perché adesso per rifare i lavori in questa scuola noi dovremmo spendere di nuovo la stessa somma che magari poteva andare per la sistemazione di un'altra scuola. E così oggi io sono andata in terzo municipio e sono andata a vedere con la Presidente una struttura che con grande fatica era stata restituita finalmente all'interno di un parco ai cittadini. Ebbene qualche giorno dopo la conclusione dei lavori sono andati i vandali, hanno buttato giù tutto, hanno sfondato i muri, non hanno rubato nulla. Non hanno rubato nulla, era un'azione di violenza contro l'azione fatta dalla Presidente e nella stessa sera hanno bruciato un parco e hanno vandalizzato un altro parco sui quali l'amministrazione si era dedicata da tantissimo tempo. E' questa la risposta che abbiamo da alcuni di quelli che non vogliono il cambiamento. Allora noi andiamo avanti e andiamo avanti senza paura perché la strada è quella giusta, non ce n'è un'altra. Qui ad Ossi abbiamo riaperto un asilo nido, il nido sagittario e chi ha lavorato sa quanto è costato rimettere in funzione una struttura che era bloccata da anni. Eppure abbiamo dato una risposta a tantissimi cittadini che aspettavano, vedevano quella struttura chiusa e probabilmente si domandavano perché l'amministrazione non facesse nulla. Ostia ci sono, lo sapete benissimo, nel decimo municipio in realtà, sia Ostia che parte interna, ci sono pochissime strutture pubbliche. Ce ne sono tantissime private, private convenzionate ma pochissime pubbliche. Quella era nostra, perché tenerla chiusa? L'abbiamo riaperta, dopo anni abbiamo rimesso mano e stavolta in maniera definitiva alle oragini che ci sono ed è interessante vedere i cittadini che passano e dicono no ma quindi i lavori ci sono davvero, sì ci sono davvero. Sarà un lavoro lungo perché la zona è completamente devastata, bisognerà rifare tutto l'impianto fognario, lo diciamo, però è un lavoro che va fatto per non rimetterci più le mani e va fatto bene. Abbiamo questo pallino di provare a fare le cose bene, provare a farle a regola d'arte, riteniamo che un lavoro fatto bene sia un investimento, abbiamo questa strana concezione del denaro, del tempo, delle risorse. Hanno bruciato poco tempo fa l'isola ecologica da Cilia, effettuate tutte le indagini, tutte le mille ricerche che dovevano essere fatte, riavviati i progetti, adesso lunedì sarà riaperta una parte della struttura e nel più breve tempo possibile cercheremo di risistemare anche l'altra che è ancora visibilmente ammalorata e riapriremo anche quella. Adesso stanno dando alle fiamme i cassonetti di ostia, noi li abbiamo appena risistemati e li stanno dando alle fiamme e noi li risostituiamo perché la strada è questa, non abbiamo paura, noi non ci facciamo mettere paura da un gruppo di balordi che pensano di ostacolare il cambiamento. Sì, forse qualcuno, come dice la signora, se la sta facendo sotto, sì, è vero, forse qualcuno ha paura del cambiamento perché cambiare significa, per esempio sugli appalti, cambiare significa iniziare ad aprire, a dare lavoro a tutti, anche a quelle ditte che per anni non hanno mai potuto lavorare, a quelle imprese che magari hanno chiuso nel frattempo. Cambiare significa non cercare raccomandazioni, cambiare significa andare avanti a testa alta, significa poter guardare i cittadini del proprio municipio e dire io ho fatto tutto quello che potevo, non è abbastanza, domani farò di più, perché questa è casa mia, è casa tua, è casa nostra e la dobbiamo curare. È una missione, questa è una missione, ve lo dico, ve lo dico proprio. E Giuliana lo sa, lo sa molto bene e sarà dura, ma sarà estremamente gratificante riuscire ad aprire un asilo nido e vedere finalmente le persone che possono usufruire di un servizio. È una cosa che non apprezzo, davvero. Io questo ve lo devo dire. Allora noi ci troviamo davanti a un momento importante, siamo tutti chiamati a fare una scelta. In questo momento noi non scegliamo un partito, un altro partito, noi scegliamo un sistema. Voi vivete nel decimo municipio, quindi sapete bene come è stato amministrato in tutti questi anni, dai partiti di destra e dai partiti di sinistra, lo sapete benissimo. Voi oggi vi trovate a una svolta, potete decidere se continuare a dare fiducia alle persone che fino ad oggi hanno governato questo municipio, si ridipingono, si fanno il trucco, cambiano la pelle, cambiano i nomi, ma sono sempre loro. Io voglio fare un altro piccolo accenno, che qui gli Spada forse per troppi anni l'hanno fatta da padrone e mi sembra che hanno appena dichiarato il loro sostegno a Casa Pound e la destra ha detto che comunque eventualmente è interessata a un'alleanza con Casa Pound. Quindi con chi si allea la destra? Con gli Spada? Allora noi dobbiamo fare una scelta, siamo chiamati a fare una scelta finalmente. Vogliamo quelli che c'erano prima e il sistema che c'era prima e le persone che c'erano prima e le modalità che c'erano prima. Vogliamo alzare la testa e con molto coraggio perché ci vuole coraggio ad andare avanti quando ti bruciano le scuole, ti bruciano i cassonetti, ti vandalizzano i parchi, quando non ci sono i soldi per fare quello che vorresti eppure li devi trovare, ci vuole coraggio. E allora noi siamo chiamati a fare questa scelta, che cosa scegliamo? Sembra... Onestà! Onestà! Sì! Qui il nemico da battere, ve lo dico, il nemico da battere non sono gli altri partiti, perché chi sceglie gli altri partiti ha fatto una scelta di campo, non cambierà. Vuole quel sistema. Qui il nemico da battere è l'astenzionismo, è far capire che non è vero che sono tutti uguali, non è proprio vero. E nonostante vogliano farci credere o vogliano farvi credere che siamo tutti uguali, mi dispiace, mi dispiace non lo siamo, avete sentito i nostri parlamentari prima, avete sentito i presidenti. Noi stiamo cercando con molta difficoltà di portare avanti un progetto, un progetto che sia partecipato, un progetto che vada nel solco della legalità, il che significa anche dire ai cittadini scusatemi ci sto mettendo più tempo del previsto perché queste sono le procedure, ma noi dobbiamo fare così, noi dobbiamo fare così. E allora avete un'opportunità, finalmente. Andate a parlare con i vostri vicini e ditegli, fategli capire questa cosa. Se loro non andranno a votare, loro di fatto avranno fatto una scelta. Non è vero che siamo tutti uguali e voi lo sapete. Io vi chiedo il 5 di pensare, di pensare a come vorreste il decimo municipio. Noi diciamo decimo riparte, per noi è vero. Come lo volete questo municipio? Lo volete amministrato come è stato fatto fino ad oggi? Con le stesse logiche, perché questo è con le stesse logiche di spartizione del potere o volete aria nuova? Ecco allora voi avete la possibilità di scegliere. Io vi chiedo solo una cosa, di dare fiducia a Giuliana. Lei e la sua squadra ce la metteranno tutta. Grazie.